Era il 17 maggio 2019, io stavo facendo pausa pranzo, ero in palestra, che correvo sul tapirulano, mi arriva la notifica direttamente dall'app ufficiale della Juventus, nota della società Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore per l'anno successivo. Corro fuori dalla palestra, mi chiudo in macchina e registro un video in cui vi parlo ovviamente di quello che era accaduto. Ecco, io immagino che bene o male l'iter della giornata sarà lo stesso, perché oggi pomeriggio sono fuori di casa e quindi molto probabilmente ci sarà un video all'aria aperta, perché stiamo aspettando soltanto quella che è la comunicazione relativa all'allontanamento di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Se sarà esonero, se sarà licenziamento, non è ancora dato sapere. La Juventus sicuramente si sta muovendo e ce lo stanno facendo capire tutti i giornalisti, si sta muovendo con un team di legali per capire la fattibilità della risoluzione del contratto. Dall'altra parte, invece, c'è chi sostiene che la Juventus ed Allegri abbia dato una sorta di ultimatum della serie mettiamoci d'accordo per la buona uscita per non farci la guerra fino all'ultimo secondo. Se non arriverà questo accordo per la buona uscita con esonero immediato, allora arriverà il licenziamento. C'è chi dice che alla Juventus non vedevano l'ora che Allegri potesse fare un mezzo passo falso per allontanarlo. Beh, io credo che questo sia un dato di fatto. Questo credo che sia davvero un dato di fatto. Perché se la Juventus può permettersi tramite un'azione di un tesserato, quindi non programmata dalla Juventus stessa, a un'azione ritenuta grave, tant'è che il Corriere della Sera parla di potenziale violazione delle normative e dell'etica del club, allora è normale che una società intraprenda un'azione con un team di legali per cercare di svincolarsi da un tesserato che non ha seguito un comportamento idoneo. Cosa c'è nel contratto di Allegri? Non lo sa Luca Toselli, non lo sa nessuno che guarda dall'altra parte, se non Allegri stesso che magari starà guardando il video o la Juventus stessa che magari starà guardando il video. Non lo possiamo sapere noi. Cosa c'è dentro? Cosa c'è scritto? Le clausole? Tutte queste cose qui. Lo sanno i legali che in questo momento hanno impugnato il contratto per cercare di capire se c'è una scappatoia da questa roba qui. Io sono sincero, qui non stiamo più parlando di pallone, siamo usciti dall'area legata allo sport, dall'area legata al giudizio e quindi io faccio anche un po' fatica a dare una mia valutazione lucida, oggettiva. Io ieri sera vi ho spiegato le motivazioni per cui secondo me ci sono stati degli errori sia da una parte che dall'altra. Magari vi invito a andarvelo a vedere, ve le riassumo un po' all'osso. La Juventus nel fare questo giochino del silenzio è Allegri nel fare questo giochino dell'attacco continuo. Perché tanti stanno continuando a sostenere che invece Allegri, poverino, dentro la Juve, che la Juve l'ha trattato male. Ma ragazzi, io vi invito però anche a guardare l'altra campana. Se noi partiamo dal presupposto che Allegri è un santo e non è nemmeno il diavolo, ma non è nemmeno un santo, allora sbagliamo. Perché allora determinati comportamenti possono aver dato fastidio di Allegri? Per me assolutamente sì, tutto questo silenzio, questa comunicazione, questa strategia comunicativa. A me non è piaciuta, ma non ve lo dico da ieri, ve lo dico da un po', ve lo dico da un po'. Ed è una strategia tra l'altro che ha salvato Allegri, perché sennò sarebbe andato a casa con qualche giornata d'anticipo. Ma se pensiamo che Allegri invece sia stato bello, bravo, biondo, con gli occhi azzurri, allora ragazzi, mi dispiace, ma stiamo facendo un errore, e anche un grande errore. Perché queste continue frecciatine alla società non me le sono inventate, ci sono cose che sono culminate poi in questa discussione, tutte le conferenze stampa. Io me ne ricordo i commenti della gente che mi diceva, ma vedi quello che vuoi vedere? Ma ragazzi, ma pensiamo veramente che siano così ingenue queste persone, sono persone intelligenti che lavorano nel calcio, che hanno contatti con la comunicazione. Non è un caso che oggi sia uscita tutta la linea difensiva di Allegri dall'intervista a Galeone, dall'opinione di Zazzaroni che è completamente diversa anche come ricostruzione rispetto alla quella di tutti gli altri giornali, le parole di capello. Ragazzi, dai, cerchiamo anche di venirci un po' incontro l'uno con l'altro, perché non è una situazione né bianca né nera, è una situazione grigia, dove tutte e due le parti hanno avuto dei comportamenti non da Juventus per quanto mi riguarda. Perché che cosa costava dire ad Allegri, sei stato esonerato, finisci l'anno e poi vai a casa? E che cosa costava ad Allegri semplicemente accettare il fatto che una società può decidere di interrompere il contratto con un allenatore? Questo sarebbe stato il modo giusto, maturo e normale di concludere questa esperienza. Non farglielo capire, perché è ovvio che viene da pensare che Giuntuli abbia giocato al gatto col topo. Poi, ripeto, per me il discorso un po' più ampio entra in gioco anche una decisione comunicativa dalla società che deve passare da tante teste, quindi non è così facile come la stiamo esponendo, come stiamo chiacchierando in questo momento. Però la situazione sembra chiara, e cioè la Juventus sta facendo di tutto per poter impugnare dal punto di vista legale questo contratto con Allegri e risolverlo. A me più che per Allegri, che secondo me può arrabbiarsi, può avere il momento di rabbia, ma se poi fai quelle robe lì, per quanto tu possa avere giustificazione di esserti arrabbiato, sai a cosa stai andando incontro. A me dispiace più per lo staff di Allegri. Adesso cito i principali Landucci, Padoin, Magnanelli, più tutti gli altri, tutto il suo staff. Queste sono persone che non guadagnano le cifre di Allegri. Quei 20 milioni che la Juventus potrebbe risparmiare licenziando per giusta causa. Queste persone poi rimarranno senza questi soldi. Io l'altra sera sentivo che Allegri con la conquista di questa Coppa Italia andrà invece a ricrearsi un mercato. Alcune squadre potrebbero essere interessate a lui. Secondo me con questa scenata il mercato se lo distrugge e si mette in una situazione difficile perché lui avrebbe potuto, e secondo me giustamente, dire ho un altro nonno di contratto con la Juve, mi lasciate a casa. Bene, allora io sto a casa e mi pagate. Non vengo incontro a voi per risolvere il contratto, per andare ad allenare da un'altra parte, prendendo meno, con una buona uscita comunque prendendo meno di quello che mi spetta di diritto. Perché quel contratto di quattro anni ad Allegri è un contratto che, dal punto di vista della logica e tutto, va dalla parte di Allegri. Perché nessuno è obbligato la Juve a fare quel contratto. Invece così, mettendo in difficoltà anche il suo staff, e secondo me lo staff di Allegri non sarà così comprensivo come tanti tifosi della Juve. Non sarà così felice e contento come tanti tifosi della Juve. E conosceranno la situazione, la questione, tutto quello che è successo molto meglio di me, di te, di tutti noi. Di tutti noi. Saranno anche forse arrabbiati. Io non so se poi Allegri riuscirà a trovare nel breve una nuova squadra. Voglio veramente che si faccia un ragionamento che, dato che stiamo facendo un ragionamento che esula dal calcio, andiamo veramente oltre il calcio. Andiamoci oltre perché la grande colpa di Allegri in questo secondo ciclo alla Juventus, e io voglio parlare solo di questo secondo ciclo alla Juve perché per me il primo è stato bellissimo e lo lascio lì, ma in questo secondo ciclo Allegri si è veramente creduto un dirigente della Juve. E magari gliel'hanno pure fatto credere. Magari quando firma quel contratto gli hanno pure detto tu sei il manager, non sei il manager, sei il manager della Juve. E forse questo spiega anche il perché l'anno scorso voleva avere voci in capitolo alle scelte del DS, che è una cosa assolutamente in controtendenza per un allenatore. È il tuo superiore? Chi fa il postino, il cuoco, il dipendente, quello che volete? Ha mai scelto il proprio capo? Non penso, credo di no. È difficile perché non succede questo. Quindi o Allegri ha creduto che, di avere più poteri, qualcuno gliel'ha fatto credere, ma poi nel momento in cui cambia la società è normale che, anche se ci sono state delle promesse, vanno riadeguate, va rimesso tutto nel contesto della nuova dirigenza. Che Allegri non volesse giuntoli l'anno scorso, ragazzi, era palese. Cioè Caressa ci ha fatto un'intera puntata del club sopra speciale dicendo che non sarebbe arrivato giuntoli, perché la Juventus non aveva fiducia in giuntoli. Cioè giuntoli ha iniziato questo, ad essere screditato dalla Juventus, da figure vicine ad Allegri per la Juventus, da prima del suo arrivo. Cioè potete capire da voi che non sarebbe poi finita bene. Cioè cerchiamo di guardarle tutte, questi punti di vista, guardiamoli tutti, perché se qui pensate che la Juventus sia stata perfetta e che Allegri sia stato perfetto, ragazzi, è una brutta notizia per voi. Non è stato così. Non è stato così, perché entrambe le parti hanno sbagliato. Ed entrambe le parti hanno calcato e forzato la mano per arrivare a questa situazione qui. Perché Allegri sapeva benissimo a cosa sarebbe andato incontro. Probabilmente non è riuscito a gestire la rabbia o ha voluto dire sapete cosa mi esonerate, benissimo, esco di scena a modo mio. Non lo so che cosa sia stato. Non ne ho idea. Non ero presente, non so nella testa di Allegri. Ma sicuramente la Juventus oggi ci sta pensando. E se il 17 maggio del 2019 è una data simbolica, perché alla fine del primo ciclo di Allegri bis, il 17 maggio 2024 può diventarlo altrettanto. Vedremo se le tempistiche saranno le stesse. Vedremo se sarà in pausa pranzo. Non sarò in palestra, non sarò sul tapirulano, quindi non potrò fare la replica di quella roba lì. Però è una giornata che va monitorata, è una giornata in cui molto probabilmente Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus. È una giornata nella quale molto probabilmente andranno ad annunciare come traghettatore Montero per le ultime due partite. Queste dovrebbero essere le cose di oggi. Sarà interessante vedere se si concretizzeranno oppure no. Però devo dire una cosa conclusiva, cioè che mi dispiace e mi dispiace tanto che un canale che voleva parlare di calcio, della propria squadra del cuore, spesso e volentieri negli ultimi anni si è ritrovato a parlare di tutto tranne che di calcio, di extracampo, di comportamenti, di parole. E spesso e volentieri, ed è la cosa che mi ha dato più fastidio dell'Allegri bis, di dover commentare persone che non fanno delle analisi sportive, ma recitano una parte, recitano una parte perché sono da quella parte lì. E queste sono persone dei professionisti, perché la parola professionista è adeguata, ma dei professionisti che per me la loro professione non la fanno nel migliore dei modi e si rascondono dietro al, beh questa è la mia opinione. Ma a me dispiace per i tanti tifosi della Juventus che in questo momento odiano tra virgolette la Juventus intesa come società. Perché? Perché per loro Allegri è stato trattato male. Sì, secondo me non è stato trattato bene da quest'ultima dirigenza, perché c'era modo e modo per fargli capire quello che volevano fare. Ma dall'altra parte non c'è un santo, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. E tutto questo carrozzone mediatico che Allegri ha scatenato negli ultimi anni dall'intervista a sconcerti, pace all'anima sua nei momenti, la lettera di ieri dell'avvocato di Allegri che non è passata per gli uffici legali della Juventus ed è un'altra roba che la Juventus ha dato molto fastidio. Allegri che spiega le sue motivazioni al Corriere. Queste cose, ragazzi, sono tutte cose che dentro la Juventus hanno dato fastidio, per forza di cose. Quindi quando ragionate sul ha fatto bene perché, bene, d'accordo, vostra opinione, sacrosanta, legittima, non sarò qui a percularla o a dirvi che avete torto. Vi invito soltanto a guardarli insieme, perché tante volte Massimiliano Allegri si è messo in una posizione diversa da quella della natura della Juventus, non so se perché gliel'hanno promesso, non so se perché l'ha creduto lui, ma questo è quanto e l'epilogo è un epilogo terrificante, bruttissimo, grottesco ed è una sconfitta per me per tutta la Juventus. Perché nel mondo ci guardano, in Italia ci stanno già prendendo tutti per il culo perché vinciamo un titolo dopo tre anni e guardate che cosa facciamo. E in Europa questo non è un bel biglietto da visita, ve lo dico, e c'è da tutelare salvaguardare un brand, una squadra, un simbolo, una storia, quella della Juventus. Forza Juve.